Io e Nelia, vuoi unire la tua vita alla mia, nel Signore che ci ha creati i redenti? Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Guido, vuoi unire la tua vita alla mia, nel Signore che ci ha creati i redenti? Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.